Il Consiglio Provinciale di Pescara, presieduto da Giorgio De Luca, si è riunito oggi per l'ultima volta. La Sise si scioglie per consentire l'avvio dell'iter previsto dalla legge del Rio sulla riforma delle province. Sono stati cinque anni difficili, ha detto Guerino Testa, ma nonostante la spending review, abbiamo completato importanti lavori per la viabilità, l'edilizia scolastica e le politiche attive del lavoro. Abbiamo colto risultati importanti nel settore della viabilità, oltre 60 milioni di euro spalmati sul territorio provinciale. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica abbiamo risolto problemi annosi che investivano la provincia di Pescara. Penso al De Cecco, all'alberghiero, penso alla realizzazione del nuovo liceo scientifico da Scadio a Montesilvano e tante altre problematiche. Penso anche a ciò che è stato fatto nel settore delle politiche attive del lavoro. Oltre 11 milioni e mezzo di politiche attive del lavoro spalmate sul territorio provinciale. Alcune prassi nostre sono state prese ad esempio in altre province, in altre regioni, anche più all'avanguardia rispetto alla nostra realtà. E quindi dico che nonostante 5 anni di tagli, 5 anni di recessione, 5 anni segnati da una crisi occupazionale, finanziaria ed economica, la provincia di Pescara ha portato a casa risultati importanti. Il prossimo consiglio provinciale sarà composto dai sindaci del territorio. Presidente e Giunta rimarranno in carica fino alla fine dell'anno a titolo gratuito, ma a ribadito testa l'impegno sarà lo stesso. Questa riforma è un pasticcio aggiunto e andrà a colpire i cittadini che beneficiano dei servizi delle province. Noi restiamo a disposizione dei sindaci e delle comunità. Da oggi si apre un nuovo corso perché il consiglio provinciale si scioglie, il sottoscritto sarà commissario fino al 31-12 di quest'anno unitamente agli assessori e sebbene ci sia la gratuità del nostro incarico, noi con senso di responsabilità, con umiltà e cercando di essere quotidianamente utili per la provincia di Pescara porteremo avanti il nostro incarico. Grazie